Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La terza commissione consigliare presieduta da Attilio Solinas è tornata a discutere la proposta di legge riguardante interventi a favore dei soggetti con bisogni educativi speciali, disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Una proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Solinas, Casciari e Rometti. Ha preso parte ai lavori della commissione l'assessore regionale Antonio Bartolini. Il presidente Solinas ha sottolineato la necessità, emersa anche a seguito di audizioni con le associazioni e i soggetti interessati, di aiutare economicamente le scuole che si preoccupano di sostenere i bambini con bisogni educativi speciali. Secondo Solinas la regione deve fare la sua parte al fianco della scuola e l'occasione giusta per introdurre queste tematiche sarà la riforma della legge sul diritto allo studio. L'assessore Bartolini ha detto di condividere l'esigenza di trovare una normativa adatta per i bisogni educativi speciali e ha confermato che la riforma del diritto allo studio è un obiettivo della giunta regionale, sottolineando che bisogna considerare anche le attività di apprendimento dopo la giornata di scuola, un tema che non dovrebbe essere trattato nell'ambito del sociale ma in quello dell'istruzione, per cui sarebbe necessario un trasferimento di fondi dal sociale all'istruzione. La proposta rimane perciò sul tavolo in attesa della riforma del diritto allo studio. Valutazione d'impatto della legge 25 2008 in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale. Relazione del servizio studi di Palazzo Cesaroni in seconda commissione. Nella riunione della seconda commissione presieduta da Eros Brega, la dirigente del servizio studi e valutazione delle politiche, Simonetta Silvestri, unitamente a Nicola Falocci, hanno informato i commissari presenti circa l'avvio di uno studio di valutazione sulla legge regionale 25 del 2008 che detta norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale. L'obiettivo è quello di favorire la crescita delle imprese, della loro capacità di competere, anche attraverso il rafforzamento della dotazione di reti infrastrutturali, materiali ed immateriali a disposizione del sistema produttivo. In relazione all'avvio del ciclo programmatico comunitario 2014-2020 è stata avviata una collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia per la realizzazione di una ricerca, per una valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati raggiunti. Gli ambiti di analisi su cui si basa la ricerca riguardano gli obiettivi, gli strumenti, le modalità attuative, ma anche l'attualità dell'impianto normativo. Approfondimenti riguardano le modalità di attuazione della legge e le intersezioni con i POR 2007-2013 e 2014-2020. Attenzione viene prestata alla verifica della capacità di una politica pubblica di modificarne la direzione desiderata, comportamenti e condizioni dei destinatari, degli incentivi alle imprese, oltre a quella degli interventi realizzati in relazione alle caratteristiche del sistema produttivo regionale. La collaborazione con l'Università prevede la predisposizione di due report. Il primo, intermedio, verrà sottoposto all'attenzione della Commissione entro il prossimo mese di luglio, il secondo entro la fine di quest'anno, in cui verranno illustrati e discussi i risultati finali della ricerca. La terza Commissione consigliare ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione concernente la realizzazione di un unico centro regionale interaziendale di epidemiologia, coinvolgendo il Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione Igiene e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Perugia e le aziende sanitarie e ospedaliere Umbre. L'obiettivo è quello di non disperdere, ma invece ottimizzare l'impiego di risorse umane, finanziarie e tecnologiche per l'attività di sorveglianza epidemiologica finalizzata a supportare l'organizzazione e il coordinamento dei servizi del sistema sanitario regionale. La proposta di risoluzione approvata all'unanimità dalla terza Commissione nasce dal riscontro delle difficoltà del registro dei tumori Umbro a fronte di una forte diminuzione delle risorse deliberata dalla Giunta regionale e dalla volontà di non disperdere l'attività di raccolta ed elaborazione dati, vanificando il lavoro fin qui svolto anche perché si è rivelato essenziale per le attività di programmazione sanitaria e per l'organizzazione del servizio sanitario regionale. Se si vuole sorvegliare l'andamento della patologia oncologica, ha spiegato Solinas, occorre un soggetto che ricerchi le informazioni, le codifichi, le archivi e le renda disponibili per studi e ricerche. Per diversi tumori maligni, inclusi colon retto, mammella e melanoma della pelle, vengono raccolte informazioni molto dettagliate sulle caratteristiche della malattia, che consentono di analizzare in dettaglio l'appropriatezza e l'efficienza dei percorsi clinici e rappresentano l'evoluzione per cui vale la pena disporre di un registro tumori. Vi è anche un altro aspetto fondamentale. Indagini ambientali ad alta risoluzione sono state sviluppate in via sperimentale per rendere il registro tumori in grado di dare un contributo rilevante alle indagini che mirano a caratterizzare, dal punto di vista epidemiologico e ambientale, aree geografiche di medie o piccole dimensioni. L'impiego dei moderni sistemi di geocodifica GIS e di tecniche statistiche mediamente più complesse di quelle necessarie per le elaborazioni ordinarie consente al registro unico nel panorama nazionale di fornire risultati epidemiologici per tutta la regione, un sistema che può essere utilizzato per qualsiasi indagine su base geografica come l'adesione agli screening regionali o il consumo di farmaci oltre all'impatto di insediamenti industriali. Interrogazione del capogruppo socialista dell'Assemblea legislativa Silvano Rometti chiede alla Giunta di chiarire se gli ambiti territoriali di caccia che hanno terminato il proprio mandato nel 2017 siano stati prorogati e se l'attività svolta successivamente dagli stessi dopo la scadenza del mandato sia stata eseguita nel rispetto dei parametri di legittimità e delle previsioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale. Spieghi inoltre se intende sospendere in via cautelativa l'efficacia della determinazione dirigenziale relativa alla rimozione delle tabelle perimetrali della zona di ripopolamento e cattura San Fortunato di Marsciano a TC Perugia 1, nonché ogni ulteriore atto correlato. Sempre Rometti ha annunciato anche un'interrogazione per conoscere gli intendimenti della Giunta per agevolare lo svolgimento di sagre locali e feste paesane. Secondo il consigliere socialista è necessario alleggerire le previsioni contenute nelle circolari ministeriali sulla sicurezza delle manifestazioni per favorire lo svolgimento e l'organizzazione di sagre e feste paesane che rappresentano un'attrazione turistica e contribuiscono ad arricchire l'offerta socio-culturale dei nostri territori. Il capogruppo regionale di Forza Italia, Roberto Morroni, annuncia la presentazione di una mozione rispetto all'ampliamento del secondo calanco della discarica Le Crete di Orvieto. In sostanza chiede alla Giunta di fare marcia indietro e rivedere la propria posizione favorevole all'ampliamento del sito. Secondo Morroni si tratterebbe di una scelta che cozza con la volontà espressa più volte e in maniera chiara dal Consiglio Comunale di Orvieto e dall'intera comunità orvietana e a cui si è aggiunta la presa di posizione degli altri 11 comuni dell'area. I consiglieri regionali del Partito Democratico, Carla Casciari e Giacomo Leonelli annunciano la presentazione di una mozione con cui chiedono alla Giunta di attivarsi presso GEPA FIN per anticipare le risorse a quelle imprese agricole in difficoltà con gli istituti di credito per la mancata liquidazione da parte di Agea, il soggetto pagatore per conto delle regioni, delle somme spettanti. Sullo stesso tema il capogruppo del Partito Democratico Gianfranco Chiacchieroni auspica la massima attenzione dalle istituzioni in relazione ai parziali ritardi di pagamento e al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Per Chiacchieroni si tratta di sostenere il ritorno dei giovani all'agricoltura e tutelare questo processo al fine di consolidare questo patto con le nuove generazioni. Il portavoce del centrodestra Palazzo Cesaroni, Marco Squarta, fa sapere di aver chiesto un'audizione presso il Comitato per il controllo e la valutazione dell'assessore all'agricoltura, Fernanda Cecchini, per conoscere le ragioni dei ritardi relativi all'elargizione dei fondi comunitari e agli agricoltori umbri. In un mercato sempre più vulnerabile, dice Squarta, troppe aziende stanno rischiando il collasso per colpa delle istituzioni. La produzione agricola umbra di qualità deve tornare al centro delle politiche. I consiglieri della Lega, Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, hanno chiesto al Presidente della Terza Commissione, Attilio Solinas, di convocare urgentemente un'audizione sul decreto legislativo che definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento europeo riguardante materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. I consiglieri della Lega propongono di ascoltare il Comitato Artigiani di Ruta, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 1, l'assessore alla sanità e, considerando il cospicuo impatto economico che tale legge genera sull'Umbria, sottolineano i consiglieri della Lega, andrebbero sentiti anche i sindaci di Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto. Presentata a Palazzo Cesaroni la ricerca commissionata dal Corecom dell'Umbria sull'uso del web da parte degli adolescenti. Il servizio. Il 99% degli studenti delle scuole superiori di Perugia e di Ternius ha WhatsApp e quasi la metà di loro ha inviato messaggi privati offensivi nei confronti di altri. Si comincia a entrare nella rete a nove anni insieme ai genitori, a 11 anni si possiede il proprio smartphone. Quasi il 40% degli adolescenti ha escluso qualcuno dai gruppi virtuali almeno una volta o due volte al mese. Questo si definisce cyberbullismo soft, leggero. Sono alcuni dei dati scaturiti dalla ricerca che il Corecom dell'Umbria ha commissionato a Maria Giuseppina Pacilli, docente di psicologia sociale dell'Università degli Studi di Perugia, illustrata e poi discussa in una tavola rotonda a cui hanno preso parte insegnanti, studenti, rappresentanti delle prefetture di Perugia e Terni, dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, della Polizia Postale, l'On. Elena Ferrara, promotrice della legge 71 del 2017, Mario Morcellini, commissario dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Maria Rita Bracchini, vicepresidente del network europeo antibullismo, e il professor Rolando Marini, sociologo della comunicazione dell'Università per le stranieri di Perugia. Da questa ricerca emergono due indicazioni importanti. La prima è relativa alla centralità del web nella vita degli adolescenti. I nostri partecipanti iniziano ad usare internet molto presto, sia con i genitori che da soli. La maggior parte di loro ha almeno un profilo su un social network, la maggior parte di loro usa WhatsApp e, detto questo, resta un altro punto fondamentale da esaminare nel nostro lavoro che riguarda il cyberbullismo. Un aspetto importante emerso dal nostro lavoro riguarda la molteplicità di facce che questo fenomeno presenta. Di solito tendiamo a identificare il cyberbullismo soltanto nelle sue forme più manifeste di violenza conclamata. In realtà è opportuno, anche per effettuare interventi efficaci, identificare le forme più sommerse, i comportamenti più quotidiani che possono essere però altrettanto dannosi e pericolosi per chi li subisce. Il 78% degli adolescenti intervistati si collega da smartphone. Fino a qualche anno fa invece avveniva attraverso il computer di casa, in una maniera più condivisa rispetto a quanto avviene oggi, con i ragazzi che parlano raramente o mai con i propri genitori e mai si fanno aiutare da loro di fronte a qualcosa che li turba online. Quasi il 30% di loro ha ricevuto richieste di foto nude di sé. I social network sono usati anche di notte, quando non solo disturbano il sonno ma provocano difficoltà di concentrazione. Un considerevole numero di ragazzi diviene attore, spettatore o vittima di episodi di cyberbullismo, che può essere definito soft nei casi in cui si esclude qualcuno da un gruppo, ma le conseguenze di ciò su un giovanissimo non sono tanto leggere, mentre quello hard si rivela attraverso comportamenti di manifesta ostilità. Più della metà dei ragazzi intervistati, il 61,6%, ha escluso qualcuno, mentre il 91% ha dichiarato di aver assistito almeno una volta negli ultimi due mesi a episodi di cyberbullismo. La ricerca presentata dal Corecom Umbro scaturisce a poca distanza dall'approvazione della legge regionale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo d'iniziativa della Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porsi, e del capogruppo dei socialisti, Silvano Rometti. Una legge che non cambierà il mondo, ha detto la Presidente dell'Assemblea, ma se cambiasse la vita anche di una sola persona, di un ragazzo che sta soffrendo, la potremmo considerare già un successo. Il 26 aprile di questo anno abbiamo concluso l'iter in aula per l'approvazione della legge sul cyberbullismo, una legge che ho fortemente voluto insieme al collega Rometti, in quanto convinti che un argomento di questa portata non poteva essere raccolto in un paio di righe in una legge per i giovani. E questa ulteriore ricerca, questo particolare approfondimento che stamattina verrà presentato, sarà un'occasione in più per avere dei dati importantissimi che ci vengono offerti da quel mondo che appunto da bullismo e cyberbullismo sono in qualche maniera interessati. Un'occasione in più per comprendere quali sono i bisogni su cui intervenire in maniera puntuale e tempestiva. Una giornata veramente molto importante per il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, perché presentiamo i dati di una ricerca commissionata e finanziata dal Corecom, che ci permette di analizzare non solo l'uso dei media da parte degli adolescenti umbri, ma in particolar modo di analizzare con particolare attenzione i rischi che ci sono nel web. E quando parliamo di rischi è inevitabile parlare di cyberbullismo. Noi prima di muoverci come Comitato regionale per le comunicazioni, anche per capire quali possano essere le azioni necessarie per poter arginare questo fenomeno, non da sole ovviamente, ma con la collaborazione con le istituzioni regionali, con le associazioni precedenti nel territorio, è stato necessario effettuare questa ricerca che ci permette di dare uno sguardo molto in profondità sul problema del cyberbullismo, che è un problema che esiste, non bisogna nasconderci dietro un dito e che quindi per poterlo meglio affrontare bisogna prima di tutto conoscere. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Grazie per la visione!